Non ha bisogno di alcuna presentazione David Gandy, ma per chi non lo avesse presente è il super modello, testimonial di Dolce e Gabbana, con due occhi color ghiaccio, un fisico che toglie il fiato e un sorriso che stende. Ora avete capito chi è? Bene, David Gandy, 35 anni, inglese, con una laurea in marketing rimasta nel cassetto, è uno dei modelli più ricercati, eletto e non facciamo fatica a crederlo, l'uomo più bello del mondo, ma forse molti di voi non sanno che David è anche molto, molto generoso e che da anni fa beneficenza. Gandy esorta infatti i suoi colleghi a fare di più e in un'intervista al quotidiano britannico The Independent ha dichiarato «Le persone famose devono fare qualcosa per gli altri, siamo persone fortunate e privilegiate, è nostro dovere aiutare, non stiamo facendo nulla per salvare vite umane o dare un contributo alla lotta contro il cancro». Nel 2010 David Gandy ha partecipato ad alcune iniziative benefiche in favore di Haiti, colpita duramente da un devastante terrimoto, e attualmente è impegnato nel nobile progetto realizzato con Spark Something Good e AFA che consiste nella costruzione di aule dedicate ai ragazzi con difficoltà di apprendimento.